Bene ragazzi, nel video precedente abbiamo parlato delle leggi di Ohm e qui ve le ho riassunte, abbiamo visto la proporzionalità di rette che c'è tra la caduta di potenziale capi di un conduttore ohmico e la corrente, evidenziata da un grafico che è una retta passante per l'origine, dove il coefficiente angolare rappresenta la resistenza e poi vi ho detto che la resistenza, che appunto in un conduttore ohmico non dipende da delta V e da I, però dipende dal materiale e dipende dalle caratteristiche geometriche, quindi poi dalla lunghezza del mio conduttore e dalla sezione. Benissimo, questo è un po' un ripasso. Adesso volevo fare un ragionamento energetico, perché mentre un condensatore riesce ad immagazzinare energia, un resistore, ragazzi, sapete che fa esattamente il contrario, cioè invece di immagazzinare energia, la disperde. Nel senso che i nostri portatori di carica, man mano che viaggiano e urtano continuamente contro gli ioni, vanno a cedere parte della loro energia agli ioni. Gli ioni a loro volta, oscillando maggiormente, portano ad un incremento della temperatura. Ovviamente poi ci troviamo quindi con un conduttore che non è più all'equilibrio termodinamico con l'ambiente, perché il conduttore diventa istantaneamente più caldo dell'ambiente, e quindi cosa succede? Succede che le molecole di aria, solitamente a contatto con il conduttore, sono più fredde, banale, e quindi ci troviamo davanti a un conduttore che si scalda e cede calore verso l'ambiente. Infatti, se noi poi vedremo, faremo degli elementi circuitali, quindi delle resistenze, e se mai andremo in laboratorio, vedremo che toccando un conduttore metallico una resistenza ci si scotta. Questo perché, diciamo, l'aumento di temperatura è dovuto all'aumento di velocità degli ioni all'interno del nostro conduttore. Quindi quel è il risultato che gli elettroni cedono parte, diciamo, della loro energia cinetica, per il fatto che si stanno muovendo, al nostro corpo, al nostro resistore, e quindi il nostro resistore si scalda, e una via che ha per cedere questa energia all'esterno è attraverso il calore. Quindi se io vi dico che il resistore dissipa potenza, ok, dissipa energia, ci capiamo. E la dissipa sotto forma di calore. Quindi il resistore è una sorta di dispositivo che, dal punto di vista energetico, ok, trasforma e diminuisce l'energia cinetica degli elettroni, e come output abbiamo del calore. Quanto calore? Questo, intanto, questo fenomeno si chiama effetto joule, quello che vi ho spiegato. Nel senso che, allora, cos'è l'effetto joule? È la trasformazione di energia da cinetica degli elettroni a termica. E infatti ci sono tantissimi materiali e anche tantissimi dispositivi che vengono, appunto, utilizzati per trasformare l'energia data da una pila a calore. Ad esempio il tostapane all'interno ha, appunto, delle serpentine, ok, che l'unico scopo che hanno è scaldarsi. E quindi, semplicemente, questa energia è data dai portatori di carica che vanno a scaldare il nostro resistore. Ma, ad esempio, ragazzi, anche il phon. Applicando, diciamo, una corrente, noi andiamo a scaldare il nostro materiale. Quindi, nel video precedente vi ho fatto vedere, appunto, le due leggi di Ohm. Ora, invece, parliamo un attimo dell'effetto joule. Arriviamo ad una formulazione dell'effetto joule. Quindi, l'idea, io ve l'ho già detta, ragazzi, nel senso che vi ho detto, se vogliamo fare una considerazione energetica, il resistore non fa altro che assorbire energia dai portatori di carica, si scalda e quindi va a cedere calore all'esterno, perché si trova ad una temperatura maggiore dell'ambiente esterno. Quindi, lui, semplicemente cosa fa? Lui è un dissipatore d'energia. Fa proprio il contrario di un condensatore. Cioè, se il condensatore è un risparmiatore, invece lui è un completo scialacquatore di energia. Proprio l'assorbe e la butta via. E allora, diciamo, vorrei calcolare quanta energia dissipa questa resistenza. Cioè, immaginiamo di avere della carica che sta passando attraverso il nostro resistore ai capi della quale c'è una differenza di potenziale. E quindi, ovviamente, carica in movimento significa presenza di corrente. Quindi, a parte che la corrente che cos'è? È la carica che attraversa, diciamo, questo conduttore in un certo tempo. Chiediamoci, quindi, quanta energia assorbe il nostro resistore quando una carica si trova su questo punto e arriva qua. Voglio valutare questa energia. Ma, ovviamente, questa energia è il lavoro, ok, per portare questa carica Q da questo punto a questo punto. E quindi, il lavoro che cos'è? Q delta V. Però, noi non siamo tanto interessati, ragazzi, alla carica, perché abbiamo della carica in viaggio, no? Infatti, noi non siamo molto interessati all'energia. Siamo interessati alla potenza. Perché poi, il nostro resistore, non siamo poi interessati a quanta energia dissipa, ma siamo interessati a quanta energia dissipa ogni secondo, cioè la velocità con cui dissipa questa energia. E la potenza, che cos'è? Non è nient'altro che l'energia diviso il tempo. Quindi, quanta energia dissipa ogni secondo il nostro resistore. Quindi, se la carica impiega un tempo delta T per andare da un capo all'altro, allora l'energia è Q delta V, perché è il lavoro, appunto, per spostarla. Diviso delta T. E beh, ragazzi, che cos'è Q diviso delta T? V è la corrente. Quindi, per, diciamo, la potenza, ok? Per questa è una relazione molto più generale, però la potenza è sempre il prodotto tra, la potenza, diciamo, attraverso un dispositivo, è data dal prodotto tra delta V ed la corrente che attraversa il dispositivo. Questa relazione è talmente importante che in realtà vale, ok, per due elementi circuitali, cioè vale sia per la pila e vale anche per i resistori, ovviamente con due modalità diverse. Nel senso che anche in un circuito in cui passa corrente, anche la pila sarà attraversata da una corrente, vabbè, la crea lei, no? È la pila che cede cariche per permettere il loro viaggio attraverso il circuito, dove ci saranno elementi, a questo punto, sia condensatori, sia resistenza. E appunto si scopre che la potenza che la nostra pila immette nel sistema, quindi la potenza generata dalla pila, è proprio il prodotto tra il delta V della pila e la corrente che attraversa la pila. Ovviamente la pila non dissipa potenza, non è che la cede all'esterno, anzi la pila, partendo dall'energia chimica, trasforma appunto l'energia chimica in energia elettrica. E questa infatti è energia elettrica che la pila cede al circuito. Quindi questa è potenza generata che entra nel circuito. Il contrario lo fa la resistenza, perché la resistenza, invece, che come simbolo è fatto così, la prima volta che ve lo faccio vedere, invece riceve energia, ok? Sotto forma di energia cinetica e degli elettroni. Ma la dissipa, ok? La disperde. è una scelacquatrice, è un scelacquatore il resistore. E quindi la potenza, ok? Potenzialmente ha la stessa formula, cioè la potenza è il delta V sul resistore per la corrente che attraversa il nostro resistore. Ma qui andiamo avanti di un passo, perché utilizzando la prima legge di Ohm, che ovviamente vale solo per i resistori, quindi non posso utilizzarla qua, che cos'è delta V? R per I. E quindi la potenza dissipata da un resistore è semplicemente, visto che questo è R per I R, viene la resistenza per il quadrato della corrente. Quindi si scopre che, anche se è molto banale, in un resistore la potenza dissipata, che poi se ne va in calore, è uguale al prodotto tra la resistenza, che è una proprietà propria del materiale, per la corrente al quadrato. Quindi quando passa tanta corrente, io ho una dissipazione enorme di potenza. Ci sta, perché se passa tanta corrente vuol dire che ho tanti portatori che vanno molto veloci, quindi cedono molto velocemente energia al metallo che si scalda e quindi cede energia all'ambiente. Ragazzi, questo è l'effetto Joule. Quindi qual è la formula dell'effetto Joule? Questa. La potenza dissipata si può dire sia come delta V per I, sia come R I quadro, e poi ovviamente se invece voglio parlare della differenza di potenziale, allora la I la vedo come delta V su R e quindi diventa delta V quadro su R. Dipende un po' poi a voi cosa serve, però utilizzando la prima legge di Ohm tutti i santi aiutano. E quindi ho creato, forse qualcuno l'ha visto prima perché ero andato un po' sotto, una cosa interessantissima, spero, perché questa cosa riassume tutto ciò che vi ho detto per quanto riguarda le resistenze, anche i resistori, i condensatori e le pile. Allora, infatti, guardiamo, ho fatto una tabella in cui parlo di resistore, che è il nostro conduttore, che applica una resistenza al passaggio di portatori, un condensatore che invece magazzina carica campo elettrico ed energia, ed una pila, con i loro elementi circuitali. Vedete qui, la resistenza è simboleggiata da una serpentina, il condensatore da due piastre, la pila, sempre, pila e condensatore, non bisogna confonderli, però, vedete, c'è un meno ed un più. Qual è il legame con il delta V? Allora, nel resistore è quella che viene chiamata prima legge di Ohm, cioè delta V è uguale ad R per I. Per quanto riguarda il condensatore, secondo me c'è stato un po' di razzismo sul condensatore, perché anche questa potrebbe essere una prima legge di qualcun altro. nel senso che non è che c'è tutta questa differenza, cioè anche nel condensatore c'è una proporzionalità diretta tra delta V e Q attraverso il fattore di proporzionalità che è in questo caso 1 su C. Però questa è un po' la prima legge di Ohm per i condensatori, una cosa che abbiamo già visto. E poi ovviamente il delta V invece della pila è quello proprio della pila, perché la pila come compito appunto è mantenere costante una differenza di potenziale ai propri terminali. invece il resistore e il condensatore hanno una delta V che dipende, ok, questa è poi la grande differenza tra condensatore e pila, che dipende da quanta carica è sul condensatore e da quanta carica passa attraverso il resistore. Anche la seconda legge di Ohm, sulla seconda legge di Ohm sono stati sempre razzisti per i condensatori, perché questa poverina non ha un nome, mentre questa sì. Nel senso che, cosa dice la seconda legge di Ohm? Della caratteristica proprio del nostro elemento. Ebbene, quindi la resistenza dipende dalla geometria e dal materiale. La capacità dipende dalla geometria, S è l'area delle nostre piastre e D è la distanza, ok, e dipende dal materiale attraverso Epsilon R. Invece Epsilon 0 è una costante universale, Epsilon R per il vuoto fa 1 e per ogni materiale la sua. Quindi vedete che in realtà esistono anche la prima legge di Ohm e la seconda legge di Ohm, anche se un po' improprio, per il condensatore. E poi dal punto di vista energetico, e questo video finisce, però è importantissimo avere davanti ragazzi questo schema penso sia fondamentale proprio affrontare lo studio dei circuiti con resistenze condensatori. E allora vediamo cosa fanno resistenze condensatori e pile dal punto di vista energetico. Allora, il resistore ha uno spendaccione, dissipa energia, lo prende e la butta via. Il condensatore riceve energia e la immagazzina. la pila è con lei che fornisce energia. Quindi, se voglio fare un esempio, ad esempio, la pila dal punto di vista economico rappresenta, potrebbe rappresentare lo Stato, il condensatore potrebbe rappresentare sia una banca ma anche un risparmiatore, mentre la resistenza potrebbe essere una persona a cui tu dai 100 euro e lui li butta subito via. Quindi, è una scela acquatrice di soldi. Ovviamente, il condensatore potrebbe funzionare da pila, nel senso che, poi vedremo nei circuiti RC perché è interessante, tu potresti caricare un condensatore e quindi lo Stato potrebbe dare dei soldi alle banche. a questo punto il condensatore, quindi la banca, potrebbe lei agire da Stato, cioè prestare soldi alle persone che poi sono le nostre resistenze, ok? Perché sono completi consumatori di beni e nel nostro caso di energia. Così è un po' chiara, diciamo, la differenza. Quindi, la resistenza dissipa energia sotto forma di calore e la potenza che ovviamente si misura in Watt risulta al prodotto tra la resistenza e il quadrato della corrente che attraversa il resistore, invece il condensatore, sul condensatore, ragazzi, attraverso il condensatore non passa corrente, si immagazzina della carica, quindi lui immagazzina dell'energia, ok? Che si misura in Joule, cioè non c'è energia che fluisce nel tempo, qua è tutto statico. E il nostro, quindi la nostra diga di acqua, la nostra banca, il nostro omega risparmiatore, il nostro immagazzinatore di energia, possiede un'energia pari alla capacità del condensatore che dipende dalla geometria e dal tipo di materiale e dal delta V che si instaura sulle piastre dei nostri due piatti. la pila invece che viene attraversata da corrente, una corrente che poi genera lei, ci mancherebbe, anche lei invece è quella che dà energia al sistema per poi sostanzialmente o farseli immagazzinare dei condensatori o farselo sprecare tutto dalle resistenze. bene, quindi, quanto vale la potenza immessa e quindi l'energia ogni secondo immessa dalla pila in un circuito è il delta V della pila per la corrente che attraversa la pila. Tutte queste tre formule, anche se in modi diversi, derivano tutte dal fatto che il lavoro per spostare una carica dove è presente da un punto a un punto B dove c'è una differenza di potenziale è uguale a Q delta V. Anche se direttamente non sembra, tutte queste tre le abbiamo trovate partendo da questa formula qua.